Vorrei fare una sigletta iniziale, scusa, facciamo una sigletta iniziale, qualsiasi essa sia. Da questo momento per 50 minuti io chiederei a Nistri di puntualizzare l'orologio e da questo momento alla scadenza di 50 minuti della regia devo essere avvertito perché questa è una parte di spettacolo che va in onda negli Stati Uniti e negli Stati dell'America del Sud e affido alla Rampi la sigla d'apertura. A tutti coloro che ci seguono dagli Stati Uniti e dall'America del Sud gli auguri di Aspettando Mezzogiorno e Mezzogiorno è. Prego, vai. Grazie. Grazie allora per tutti gli amici degli Stati Uniti, spero che questa sia una canzone gradita anche perché sono molti italo-americani che ci seguono ed è una canzone napoletana di vecchia data, di vecchi ricordi. Cercherò di cantarla anche bene per loro, vediamo se mi riesci. Grazie. 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 Grazie.